La macchina è passata, la macchina è passata. La macchina è passata, la macchina è passata. La macchina è passata, la macchina è passata, la macchina è passata. La macchina è passata, la macchina è passata, la macchina è passata. La macchina è passata, la macchina è passata, la macchina è passata. La macchina è passata, la macchina è passata, la macchina è passata. 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 Grazie a tutti. 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 A me mi piace, diciamo, è un albero che piace. A me mi piace, è un albero che è un albero che è nero. A me mi piace, è un albero che è un albero che è un albero che è un albero. E' un albero che è 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 un e sapremo che i figli conti sono quelli fioriti si si ma in montagna non parla niente io non parla in montagna pecazzano in montagna in montagna in collina ma lasciate ma in collina in montagna Grazie a tutti. 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 a tutti.